Era pronta a morire per difendere la razza bianca Luigi Antonio Penelli, arrestato oggi a Bari con l'accusa di terrorismo internazionale e di propaganda e di stigazione a delinquere per i motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo di soli 23 anni, originario di San Michele di Bari, adesso si trova in carcere. L'indagine è stata avviata nel 2021 dopo una segnalazione della Digos del capoluogo pugliese a seguito di un monitoraggio sul web in ambienti frequentati da suprematisti di estrema destra. Nel mirino degli inquirenti è finita soprattutto una chat di Telegram sulla quale l'indagato era particolarmente attivo e in cui diffondeva materiale propagandistico anche antisemita e nel quale sono state trovate numerose minacce di morte rivolte anche alla senatrice a vita Liliana Segre. Dalle indagini è emerso che l'arrestato aveva nella propria disponibilità diverse armi tra cui una carabina, una pistola d'aria compressa, una balestra, numerosi coltelli e mazze. Su quest'ultime sono state trovate iscrizioni inneggianti a diversi suprematisti bianchi responsabili in passato di attacchi terroristici come il killer norvegese Andres Breivik e l'italiano Luca Traini.